Ehi tu, se non ti iscrivi entro 17 microsecondi a questo canale sarò costretto a venire a casa tua e portarti un armadillo carnivoro che ti morderà il dito e non dimenticare di attivare la campanella per non perderti niente di questo canale armadilloso e se vuoi mi trovi anche su Instagram e Discord e lascia immediatamente like perché se no ti porto a casa tua il mio branco di draghi di comodo Sway, bitch Sway, bitch bravo di Piero Se io provo a entrare in camera mia E se no ho quella maniglia Ti pare colpa mia? O di chi stava bloccando la porta? È colpa tua Sei con testa di c***o Non è un'altra in camera mia, guarda Eh, paghi la mossa Sway canale Sway Ehi, se non clicchi qui per vedere i miei video e qui per iscriverti al canale ti farò morde l'orecchio Dario Caimano